Fa ancora parlare di sé la nuova Pescara, la cui nascita avverrà dalla fusione del capologo adriatico con Spoltore Montesilvano il 1 gennaio 2023 con una proroga al 2024. Stavolta i consiglieri comunali di opposizione al comune di Pescara srigliano la giunta Masci, chiedono la costituzione di una commissione ad hoc anche perché, dicono, non bisogna perdere il treno importante dei fondi del PNRR. Carlo Costantini, che da molti è definito il papà della nuova Pescara, ora consigliere comunale di fare grande Pescara. Sì, insieme a tutti i capogruppo dell'opposizione abbiamo deciso di avanzare due proposte, una per l'istituzione di una commissione per il PNRR e una per l'istituzione di una commissione sul nuova Pescara. Il tema fondamentale è che alcuni presidenti della commissione costituita con i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore stanno lavorando e hanno anche elaborato delle proposte interessanti in termini di associazione delle funzioni e dei servizi, ma complessivamente il progetto di fusione viaggia troppo lentamente. Questa è la ragione per la quale abbiamo pensato che sia opportuno istituire una commissione ad hoc. Sì, ma quando si farà la nuova Pescara? Quando si farà è scritto sulla legge, fino a quando la legge non verrà modificata non ci sarà possibilità. Ossia? Primo gennaio 2023, differibile al primo gennaio 2024. La fusione è frutto di una consultazione popolare che ha definito un esito molto chiaro. Il legislatore regionale ha approvato una legge regionale che ha definito un contesto temporale molto chiaro. Questi sono i dati oggettivi. Oggi parlare di contrarietà e parlare di favore al processo di fusione è superato. I tempi ci hanno spinto e proiettato in un'altra direzione. Oggi dobbiamo immaginare il futuro di questa nuova città. Piero Giampietro, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Nuova Pescara e fondi PNRR. Sì, per la prima volta oggi le tre minoranze del Consiglio Comunale di Pescara si mettono insieme perché rappresentando circa il 49% dei pescaresi, siamo molto preoccupati per come si sta gestendo in questo momento sia la partita strategica del PNRR sia la partita strategica di Nuova Pescara. Purtroppo fino a questo momento l'Aggiunta Masci ha scelto la via autarchica, cioè del fare progetti in maniera del tutto chiusa alla città senza coinvolgere nessuno. Chiediamo formalmente che ci sia un coinvolgimento formale, sostanziale, istituzionalizzato dell'altra parte delle città che deve essere coinvolta perché la maggior parte dei progetti di cui oggi si parlerà nei prossimi mesi saranno realizzati quando non ci sarà più questa consideratura. Marinella Sclocco, lista Sclocco Sindaco. Il PNRR è una grande occasione che viene data all'Italia, viene data all'Abruzzo e quindi al Comune di Pescara per diverse attività, dalle politiche sociali alle politiche di comunità a partite strategiche che riguardano l'urbanistica e la mobilità, ma sembra che a Pescara questo non succederà mai perché non se ne parla. Paolo Sola, Movimento 5 Stelle, opposizione compatta? Sì, perché è un momento storico importante, perché grazie ai fondi, soprattutto del PNRR che presto arriveranno anche sul nostro territorio, è una fase storica unica in cui possiamo scrivere davvero il futuro della nostra città da qui ai prossimi anni a venire, quindi è giusto che anche tutte le forze consigliari che rappresentano oggi il 49% della città siano coinvolte. Grazie a tutti.